La mia vita quotidiana è cambiata, è invalidante, non posso fare la spesa, non posso portare una busta che contiene un sacco di patate o delle arance, non posso prendere in braccio i miei figli perché pesano, non ce la faccio. Sono affetta da un diagnosi di connettività indifferenziata, che è una patologia autoimmunitaria, base autoimmunitaria, dove praticamente in parole povere il mio corpo produce anticorpi verso il mio corpo. Io sono partita a militare col primo corso aperto a noi donne nel dicembre del 2000. Eravamo 278 ragazze, piene di aspettative, di gioia, perché finalmente anche per noi si era aperta questa opportunità nell'esercito. Dunque lei è entrata nell'esercito, poi è stata sottoposta a una serie di vaccinazioni. Sì, io e tutte le altre mie colleghe. E c'è stato qualcosa che non è andato? C'è stato qualcosa che non è andato. La sera mi sono sentita male, di notte mi hanno ricoverato in infermeria, a seguito di febbre oltre i 40 e mezzo e dolori addominali atroci. Passati 15 giorni vengo richiamata per rieffettuare le vaccinazioni, ricominciandole da capo una di queste, in modo particolare quella del tifo, senza un controllo immunologico, ematologico, una visita medica, niente. Ho notato che il mio libretto vaccinale è stato contraffatto. Praticamente veniva cancellata una data e riportata altre date. Quindi praticamente veniva omessa la prima dose in cui veniva somministrata. Un particolare lotto vaccinale, un particolare tipologia di vaccino. Un paio di miei colleghe, coincidenza, stessa caserma, stesso periodo, stesse missioni, si sono ammalate in contemporanea. Una nostra paricorso, purtroppo, lo scorso anno è deceduta per un tumore al pancreas. Quindi mi hanno detto che lei era stata riconosciuta un'indennità a seguito per l'uranio impoverito, perché era stata anche lei nei Balcani. Quindi, però, dov'è la verità? Io ci metto la faccia, ma lo faccio per tutte quelle persone che non ci sono più. Per tutte quelle persone che stanno male, che stanno come me, e che magari minimamente neanche pensano minimamente che può essere collegata al discorso delle vaccinazioni. Perché c'è stata raccontata per anni la favoletta dell'uranio impoverito? Per anni, per anni. Io penso che ci sia qualcosa che vada oltre. Anche perché molti di questi deceduti e ammalati non sono mai stati in missione all'estero, mai entrati in contatto con l'uranio impoverito. Quindi la causa è da ricercarsi altrove. Molti studi dimostrano che se si viene vaccinato quando il sistema immunitario non è in condizioni ottimali, succede qualcosa. Ti può predisporre a malattie tumorali, a malattie autoimmuni, anche a poliabortività. Si parla dei protocolli. A me mi devono rispondere. In questi protocolli era previsto che in un giorno noi subessimo tutte quelle vaccinazioni. In questi protocolli era previsto che dopo una reazione avversa, con febbre oltre 40 e mezzo, dolori, tutti i sintomi che ci sono stati, venissero rivaccinata da capo dopo 15 giorni. In questi protocolli è previsto che su due malattie su tre di una trivalente che uno l'ha avute venissero ripetuti da capo? Io voglio delle risposte.